Weekend amaro per il calcio locale, con le sconfitte registrate sia dalla Vispesero che dall'Alma Juventus Fano. I biancorossi sono stati sconfitti per 4-2 sul campo dell'Arezzo, mentre i Granata hanno perso in casa 1-0 contro il Modena. Per quanto riguarda la Vis, Mister Di Donato non si è detto felice della prestazione data dalla squadra, che ora, vista la vittoria del Legnago, si ritrova a soli tre punti dalla zona play-out. Alla fine è stata una sconfitta meritata, abbiamo sbagliato tutto quello che c'era da sbagliare, dal gioco, dall'approccio, dai duelli, alla fine quando vai in campo e perditi tutti i duelli, il risultato è scontato. Un passo falso ci può stare, ci siamo giocati il primo match ball, adesso non ci dobbiamo far prendere dall'ansia, dalle paure, perché ne abbiamo un altro domenica in casa dove non dobbiamo sbagliare. Non è stata la solita Vispesero, non siamo stati noi la solita squadra battagliera, abbiamo avuto la fortuna di fare il primo gol e poi ancora una volta un nostro errore ci ha tagliato le gambe. Dobbiamo cercare di lavorare il più possibile tutti insieme, perché in questi periodi abbiamo avuto un po' di defezioni, però dobbiamo cercare di lavorare con un unico obiettivo che è la vittoria di domenica. Zero punti anche per l'Alma Juventus Fano, che sbagliando un calcio di rigore nella ripresa non riesce a pareggiare. Arriva così la prima sconfitta per il nuovo allenatore Tacchinardi, che dispiaciuto commenta il match così. È una vittoria nel Modena, è meritata, è meritata perché hanno fatto un calcio d'angolo in una situazione che avessero stati sicuramente ingenui, però una squadra adesso non so quanto possa essere oggi in classifica, se terza o quarta, però chiudere gli ultimi 20 minuti a fare le barricate dietro vuol dire che la mia squadra, con tutti i limiti che ha, perché può avere anche qualsiasi limite, meritava nettamente di più. Abbiamo sbagliato un rigore che poteva veramente girare la partita. Io e la mia squadra sono qua da 20 giorni, ma mi sto cercando di fargli capire tutte le malizie possibili e immaginabili, perché è una squadra che deve crescere sotto tanti aspetti, però sono ragazzi eccezionali, hanno fatto per me una grandissima partita e ripeto, la sconfitta è immeritata, ma ha la grandissima. Torna invece la vittoria alla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Dopo cinque sconfitte di fila, Sabato ha battuto in trasferta la Fortitudo Bologna per 79-77, guadagnando due punti importanti in chiave play-off. Una gioia ritrovata, ma per la quale non sono mancate polemiche. Si attende infatti il pronunciamento del giudice sportivo in merito al ricorso presentato dalla Fortitudo. La società bolognese ha infatti contestato una mancata osservanza del regolare protocollo anti-Covid riguardante il giocatore della VL Justin Robinson. Grazie a tutti.